11 marzo 2015. Il caso Ilirbeti arriverà in Cassazione di Claudio Martino, IFVS Ollus, 8 marzo 2015. Mercoledì 11 marzo 2015 sarà, per quanti di noi hanno a cuore nel campo della sicurezza stradale, la promulgazione di leggi sempre più efficaci ed un'applicazione sempre più incisiva delle leggi esistenti, una data molto importante. Tra le forze politiche e nella pubblica opinione è in corso, da tempo, troppo tempo, un vivace dibattito sull'opportunità o sarei dire necessità dell'introduzione nel nostro ordinamento penale dell'omicidio stradale. Ricapitolo molto sinteticamente il senso di questa nuova fattispecie di reato. Se ti metti alla guida ubriaco o drogato, o guidi in maniera spericolata, ben consapevole delle possibili, molto probabili conseguenze della tua condotta, in caso di incidente non puoi tirar fuori la solita litania, ma io non volevo uccidere, ma viene giudicato per omicidio volontario. I nostri vicini francesi stanno dibattendo un'analoga proposta. Pur non esistendo ancora l'omicidio stradale, i tribunali italiani hanno applicato, almeno nei due casi che in questo momento mi vengono in mente, il dolo eventuale nella trattazione di cosiddetti incidenti stradali, il caso Lucidi ed il caso Illirbeti. Il caso Lucidi è già arrivato in Cassazione, che ha attenuato la responsabilità dell'imputato, non accettando come aggravante il dolo eventuale. Il caso Illirbeti approderà invece in Cassazione, appunto, l'11 marzo prossimo. Azzardando, da parte di un profano del diritto quale io sono, un giudizio, direi che il caso Illirbeti, al cui confronto, lo dico sempre da profano, Lucidi si è comportato d'angioletto, non dovrebbe prestarsi a ribaltamenti delle sentenze precedenti. Leggendo la successione dei suoi atti e comportamenti, riesce difficile credere che egli possa pronunciare la formula del «ma io non volevo uccidere». Piccola nota personale, per precedenti interventi su questo stesso argomento, io e tutti gli altri che chiediamo alla Cassazione, nella quale riponiamo la nostra fiducia, un particolare sforzo di analisi prima di pronunciare la sentenza, siamo stati da qualcuno accusati di accanimento nei confronti di Illirbeti, anzi il signore Illirbeti, perché non italiano? Assicuro che, almeno per quanto mi riguarda, la critica è veramente mal indirizzata, essendo io, lo stesso assurdamente, in genere accusato di buonismo nei confronti degli stranieri. Claudio Martino. Post scriptum, volevo naturalmente dire che è molto importante che la mattina dell'11 marzo, a partire dalle ore 10, siamo presenti davanti dalla corte di Cassazione, insieme con gli amici francesi.